Io sono Giorgio Chiellini, da Pisa, Italia. La prima volta che l'ho visto dal vivo è stata una partita allo Juventus Stadium e mi ha subito impressionato. Comunque la sua cattiveria agonistica, il suo pressing e la sua dedizione al lavoro è qualcosa di incredibile. Per me, giocare nel Juventus è stata una grande esperienza. Ho arrivato come un ragazzo e diventato un uomo. Per me è una famiglia. Nel Juventus ho avuto 17 anni qui. Ho arrivato a 20 finali e ho arrivato a 38 anni. L'esercizio è famiglia. È stato bello, perché comunque era un onore avere il mio idolo nella stessa squadra mia. Anche se non era nella stessa categoria, però era veramente una cosa eccezionale. La Juve è il sacrificio e non mollare fino alla fine. Che poi alla fine è il motto della Juventus, fino alla fine, perché è veramente così. Non si molla fino all'ultimo. Devi dare il 100% ogni giorno e impegnarti al massimo. Io ho giocato un paio di volte nel mio ultimo anno con lui. Perché, sì, è 20 anni più o meno di me, potrebbe essere mio figlio. Ma la ultima settimana ho fatto qualche attrazione con lui. La prima volta è stato in un allenamento allo Juventus Center. Mi ricordo, mi ha colpito che calcio d'angolo in allenamento nella partitella e io l'ho presa io di testa. Allora l'ho guardato, volevo dirgli qualcosa, però ero troppo emozionato, non riuscivo a dire niente. Allora sono stato zitto, però me la ricorderò per sempre con la scena. Io ero molto felice. E' normale, come un ragazzo che è venuto con la prima squadra. Allora, non è così facile, ma è un ragazzo. È un ragazzo che è pieno, è pieno di passione. E ho cercato di fare tutto il suo lavoro sul campo. Durante l'anno scorso, quando ero in l'Euro-Tournament sub-19, uno dei club mi ha detto che ero seguendo e cercando di trovare un deal con la Juventus, un ragazzo che è giocato. E mi ha spiegato un po' di informazioni, un po' di informazioni sull'attitudine e sull'attitude. e ho ricevuto delle buone informazioni sull'attitudine. E poi stavamo aspettando per finire questo tournament. Quando finisce l'Euro-Tournament, lo chiedevo e lo chiedevo. Cosa è la LAFC? Cosa aspettare questa esperienza? Mi ha dato qualche consiglio. Mi ha chiesto cosa ne pensavo e tutto. Poi mi ha dato libera scelta, ovviamente. Non mi ha mai detto vieni per forza. Io ero 100% sincero con lui. Ma lui è stato molto felice. E' stato molto curioso per capire il nostro mondo. E' stato un buon esperienzo per lui, come giocatore. Ma anche come un uomo che è 20 anni. Descobre un nuovo mondo. E' stato forciato a scoprire, a comprare una nuova cultura, una nuova lingua. E' stato un grande passo per la sua carriera. in campo e in campo. Allora, magari Lorenzo potrebbe rispondere meglio di lui, ma penso che posso essere un buon esempio. E voglio essere un buon esempio per la nuova generazione in Italia. Ma anche qui, per sicuramente. penso sia una fonte di ispirazione un po' per qualsiasi bambino che faccia il mio ruolo, comunque difensore centrale. Perché comunque è stato campione del mondo, ma lui ne sa e ne ha molta esperienza. e anche come persona, vera e propria, è veramente eccezionale. Io ho avuto modo di conoscerlo prima un po' alla Ju e adesso leggermente di più. Quindi posso dire che è veramente un gran uomo. Mi porterà a insegnare tanto qua. Mi comprendo, quando è più grande durante la mia carriera, quanto è importante il messaggio e l'esempio che ti senti alla nuova generazione. E sono molto felice che Lorenzo e molti altri ragazzi potrebbero seguiremi. Io spero che un giorno riesco ad arrivare insieme a lui in prima squadra e riuscire a giocare qualche secondo insieme a lui, visto che è il mio idolo. E per me lui è veramente bravissimo nel suo ruolo. Per me è il top player del suo ruolo.